buongiorno a tutti ragazze e ragazzi oggi siamo ritornati qui con un nuovo video allora questo video sarà molto speciale perché è dei 36 iscritti, l'altra è dei 35 ma è comunque uno stesso allora mando un bacione enorme ai 35 iscritti ma oggi faremo un video un po' speciale vabbè 35 iscritti ma è un video nuovo, un nuovo video, no un video nuovo, un nuovo video che è un video assaggi, snack, snack assaggi e assaggeremo questi biscotti che sono i pasticcini di diversi gusti cioccolato, buffer, metà farina, metà cioccolato, vabbè, è una roba che ho comprato l'ho comprato all'aerospin, dovrebbe costare sui 10 euro, 3 euro, 3 euro e comprateli, devo assaggiarli quindi, e sono di 420 grammi, quindi tanto, più di un uovo credo, non lo so, perché le uovo sono di 150 grammi quindi questi sono di più, allora abbiamo, questi sono di più, ci sono di più, ci sono di più, ci sono di più quindi per il dolce vero allora, apriamoli, non li ho mai assaggiati, quindi iniziamo ad assaggiare quello al cioccolato, oppure, no, assaggio quello che mi pare addirittura c'è anche un pretzel con dentro il cioccolato, tipo un panino a forma di pretzel con dentro la confezione va bene non li ho mai assaggiati eh ve lo dico già ho rotto la confezione guardate ve ne faccio vedere o no prima volevo vedere questo guardate poi ci sono questi vedi da cioccolato ce ne sono due poi ci sono questi normali poi ce ne sono questi con gocce di cioccolato poi quelli buffer poi ci sono questi qua pretzel scusatemi se sentite un po' la televisione però è lo stesso poi ci sono questi altri di metà cioccolato lo faccio vedere poi questi poi altri al cioccolato ripieni non la forma questa ma questa sono tutti attaccati non so perché e poi questi che sono al cioccolato proprio cioccolato questo si va più un dolce invece di un biscotti tipo questi sono tipo dolci non so cosa c'entra al cioccolato con i biscotti però buon cioccolato adesso assaggierò assaggierò due tipi assaggierò prima questo qua assaggiamo allora ne ho messo preso anche una tovaglietta quindi faccio una cosa metto questi da parte e mangio qua sopra assaggiamo 3 2 1 dai sono buoni non so neanche dove provengono scusa ci sono tanti youtuber da che sono fatti non si è scritto neanche dove sono dove l'hanno fatti scusate se sentite tanto baccano però vabbè non c'è scritto dove l'hanno fatti forse credo dalla Cina credo non c'è scritto sicuramente dalla Cina secondo me sono cinesi questi non lo so saranno tipo quelli non ho mai visti però saranno italiani non lo so però almeno questi sono buoni dai questi bianchi dai sono un po' dolci sono un po' amari cioè un pochino amarini però sembrano giapponesi è solo un po' di di Giappone però di Giappone sembrano tanti giapponesi questi biscotti eh dai così così do voto questo cibo allora questo biscotto qua gli do voto di 7 perché da lunedì ci do 7 perché sono un po' così così non sono buonissime dai così così ora mi assaggio un altro assaggioro a quello al cioccolato questo è al latte mi dico già si è al latte è al latte meglio non sputtare niente quindi assaggiamolo 3 2 1 buono guardate che è all'interno sembra tipo un morsin è un morsin questo cioccolato un po' di meno la cioccolata non è tanto buona quello all'interno è molto buono quindi 8 8 8 nel prossimo video farò un altro tutorial no dello slime no non so farò il tutorial come caricare i video scusate ma è che urla allora nel prossimo scusate ragazzi perché mi ha chiamato la mamma c'era già in televisione quindi sono ancora subito la bloccata scusate intanto stavo dicendo che nel video nel prossimo video scusatemi nel prossimo video faremo un tutorial di come caricare i video più lunghi più di 15 minuti e speriamo che vi piaccia questa idea perché ho capito un bel metodo più semplice quindi allora stavo assaggiando questo ho detto il voto 8 ho detto che assaggiavo due tipi vabbè assaggiavo un altro no perché il video sta durando tantissimo tutti i video adesso posso caricare anche di un'ora quindi scusate se c'è Giorgio che canta però vabbè e adesso io cosa potrei assaggiare voi non ti siete però posso dire questo mmm già hanno odori di marmellata sa di marmellata ragazzi proprio dal naso lo sta l'odore sa di marmellata dentro però non c'è una marmellata c'è l'odore già l'odore è incredibile sa di marmellata e di albicocca quindi però forse sono più non in un altro non so c'è sa di marmellata e di albicocca non so perché a me le albicocche piacciono molto c'erano anche nel midordino c'è un casino immenso di bambole già guarda come è messa questa vabbè questo è invece il re che prende la sua testa Barbie c'è il casco già questa è nuda addirittura poi questa è una barbola ragazzi si è sentito un rumore ho chiuso le porte ragazzi ho chiuso le porte e si sente ancora tutto questa invece riesco a far vedere è una Barbie stilina bellissima continua a rompersi va Giorgia Giorgia così mi è saltato in mente fra così ok c'è anche il tv assaggio melodino dai ho già assaggetto abbastanza abbastanza dolci dai dove è stato assaggiarlo vabbè assaggiamo assaggiamo dai 3 da 1 non si sente tanto il sapore perché c'è c'è ancora dei residui di questo qua quindi buono io non vorrei assaggiare questo perché so già il sapore perché ho assaggiato questo qua che è dello stesso colore e dello stesso sapore di questo dove è tanto assaggiare questo però dovrebbe durare troppo vedete c'è anche il cioccolato allora lo sentite buono 8 l'unico che non mi è piaciuto tanto è stato questo perché sapeva un po' di un po' di un po' amaro allora allora ragazzi ho assaggiato tutto questo contatto finisco quindi ragazzi speriamo che questo video assaggi snack di biscotti dolci vi sia piaciuto non so neanche dove l'hanno fatti dopo guarderò adesso guardo subito scusate blocco scusate ragazzi ho ribloccato perché mia mamma stava ancora chiamando per la canzone con il nostro l'amore di Giorgia allora vi dico già allora ve lo dico allora speriamo che questo vi sia piaciuto attivate la campanella per il secondo video secondo video tutorial e ci vediamo nel prossimo video ciao io ve li consiglio oddio non si è mostrato la telecamera io ve li consiglio ho già assaggiato di due tipi non assaggiate questo perché non mi piace ve lo dico già assaggiate questo 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 io sicuramente non ho assaggiato il buffer però poi ho assaggiato anche questo quindi ragazzi vi saluto e ci vediamo nel prossimo video ciao ciao ciao